Amici di TV6, benvenuti in nuovo appuntamento con una nuova edizione della TG L'Aquila in apertura alla cronaca perché ci sono stati due morti nella giornata di ieri. Si tratta in particolare di una 35enne di Paganica che ha ingerito dell'acido, poi in serata la seconda vittima, un'anziana colta da infarto mentre guidava l'auto. I particolari con Daniela Rosone. Non ce l'ha fatta il 35enne di Paganica, popolosa frazione dell'Aquila, che ieri è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dopo aver ingerito acido muriatico. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva delle difficoltà lavorative. In base a quanto accertato dagli agenti della squadra volante della Questura, coordinati dal dirigente Nicola Di Pasquale, l'ingestione dell'acido sarebbe avvenuta ora di pranzo, dinanzi alla compagna che da poco era rientrata in casa. Un collega, inoltre, sarebbe stato avvertito in precedenza con un messaggio. A soccorrerelo sono stati, intorno alle 14, i sanitari del 118, ma l'uomo, dopo il ricovero, è morto. Il 35enne era arrivato nella struttura sanitaria cosciente, anche se in condizioni non buone. Una donna di 82 anni, invece, è deceduta ieri notte per un infarto, mentre era alla guida della sua automobile nei pressi della Questura dell'Aquila. L'anziana era appena uscita da un centro ricreativo nella zona del Torrione, vicino alla Questura, e sentendosi poco bene alla guida, ha fermato il mezzo nei pressi della Questura Aquilana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, coordinati dal dottor Di Pasquale, che hanno allertato subito il 118, ma all'arrivo dei sanitari, la donna era già deceduta. Apriamo adesso la pagina politica, perché Guido Borrelli, ex direttore del Tg1 e protagonista del civismo abruzzese, annuncia che l'esperienza di Abruzzo civico, così come conosciuta finora, è finita. Assieme ai consiglieri eletti, Olivieri e Gerosolimo darà vita a un nuovo movimento civico regionale autonomo. I civici abruzzesi, che fanno parte della coalizione di centro-sinistra alla Regione, si liberano dunque da scelta civica, una delle componenti dell'ex Abruzzo civico, e puntano a nuovi traguardi. Borrelli lascia l'attuale direttivo e non parteciperà domani a una riunione convocata da Sottanelli, deputato di scelta civica. Non sarò presente al vostro direttivo di venerdì perché, come sapete, non condivido i passaggi e le decisioni che hanno portato alle modifiche statuatarie. Penso anche che vadano sciolti gli equivoci provocati dalle doppie appartenenze per allargare realmente la base del consenso a tutti coloro che oggi, nel presente vuoto politico, non vogliono saperne più dei partiti. C'è posto per tutti, spiega ancora, nel nuovo progetto. Se a valere saranno il disinteresse personale, il buonsenso, l'autonomia e una chiara volontà di cambiare le cose. E ancora, restando in tema politico, il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, i senatori IDV, Alessandra Bencini e Maurizio Romani, saranno domani all'Aquila alle ore 11.30 presso il Consiglio regionale nella Sala Guido Polidoro per una conferenza stampa in cui illustreranno il disegno di legge sull'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-sisma della città dell'Aquila e di tutti i comuni del cratere. Il segretario regionale, Lelio De Santis, spiega al riguardo sull'intera attività della ricostruzione post-terremoto occorre che si faccia subito ed efficacemente piena trasparenza. I cittadini hanno diritto di sapere e la commissione può certamente rappresentare uno strumento in grado di fornire ulteriore e approfondita chiarezza. E ancora, per quanto riguarda l'ambito politico, è stato rimandato l'incontro, la visita prevista all'Aquila della debutato di sinistra italiana Stefano Fassina. La visita è stata appunto posticipata per impegni politici. Capitolo sport, lo apriamo quest'oggi parlando dello stadio di Acquasanta perché ieri sono stati assegnati in via provvisorie lavori per il sistema di videosorveglianza. Entro 30 giorni i possibili ricorsi da parte delle altre aziende che hanno partecipato all'asta, poi partiranno ufficialmente lavori 28 giorni di tempo per montare tutte le telecamere. I particolari nel servizio. L'appalto per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del nuovo stadio di Acquasanta è stato giudicato in via provvisoria dalla ditta Sicce SRL di Agrigento, che ha preceduto nella graduatoria la Marone SRL, la Stricigre SRL e la Michele Di Cola. Le buste sono state aperte martedì pomeriggio. In questo modo l'amministrazione comunale ha terminato la procedura di negoziazione per affidare questi lavori, che rappresentano un passaggio molto importante e atteso per il completamento del nuovo stadio, che ha subito ritardi eccessivi provocando il malumore dei tifosi rosso-blu che lo attendono ormai da anni. Affidamento provvisorio perché tutte le carte ora andranno al settore ricostruzione pubblica, che dovrà ovviamente fare le opportune verifiche richieste dalla legge, vale a dire Durca, Antimafia e tutte le altre procedure richieste. Una fase che precede il passaggio dell'aggiudicazione definitiva, con i 30 giorni nei quali altre aziende concorrenti potranno fare eventuali e possibili ricorsi. L'importo a base d'asta era di 299.557 euro. I tempi di realizzazione sono stati fissati invece in 28 giorni. L'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri, ha dichiarato che verranno montate circa 100 telecamere, posizionate sia negli spazi interni che in quelli perimetrali, comprese le aree di accesso e i parcheggi. Capri ha promesso che l'impegno sarà continuo, affinché quest'opera sia fruibile nel più breve tempo possibile. E restando ancora in tema l'Aquila Calcio, questa mattina un importante discorso tenuto dalla società alla squadra, prima dell'allenamento allo stadio proprio di Acquasanta. Noi eravamo lì con delle immagini esclusive, guardate. A volte è nelle difficoltà che si riesce a fare più di quanto si possa pensare. È questo il leitmotiv che questa mattina ha caratterizzato il discorso della dirigenza dell'Aquila Calcio alla squadra. Il presidente Corrado Chiodi, il suo vice Massimo Mancini e il tecnico Carlo Perrone hanno parlato ai giocatori prima dell'allenamento sul campo di Acquasanta, dando loro coraggio e motivazioni in attesa della sentenza della giustizia sportiva, che all'inizio della prossima settimana decreterà i punti di penalizzazione in classifica per l'inchiesta sul calcio scommesse. In sostanza, uniti e compatti dal primo all'ultimo, si può compiere l'impresa di salvare la Lega Pro a dispetto dei punti di penalità. Una missione solo per uomini veri, come ribadito poi dal capitano dell'Aquila Claudio De Sosa, che dopo gli interventi di tecnico e società, ha preso la parola per promettere a nome dei compagni il massimo impegno in campo e per cercare di tenere lontane le vicende giudiziarie. Intanto, passando al mercato, si aspetterà la prossima settimana per ufficializzare l'arrivo di Emanuele Pesoli. Il motivo del ritardo? Un piccolo problema muscolare al polpaccio, che permetterà all'ex difensore del Pescara di essere disponibile non prima di una decina di giorni. Da segnalare inoltre la presenza da ieri di un nuovo difensore. Si tratta del giovane croato, classe 1997, Tony Farias, che questa mattina ha conosciuto personalmente il presidente Corrado Chiodi e il suo vice Massimo Mancini. E restando ancora al mercato, proprio nella giornata di ieri è stato ufficializzato il primo acquisto del mercato invernale dell'Aquila Calcio. Si tratta del portiere ex Forlì Francesco Scotti. Noi lo abbiamo intervistato. Sentite le sue prime impressioni da nuovo portiere dell'Aquila. La porta dell'Aquila Calcio potrebbe avere presto un nuovo padrone. Nel pomeriggio di ieri il club rosso-blu ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto portiere Francesco Scotti la scorsa stagione in forza al Forlì. Negli ultimi sei mesi si è tenuto in costante allenamento grazie all'aiuto dell'amico Giancarlo Bellocci, che fu il preparatore dell'attuale portiere dell'Inter Samira Andanovic, ai tempi del Rimini. Ma chi è Francesco Scotti? Di sicuro non l'ultimo arrivato. In carriera vanta oltre 300 presenze in Serie C, che sfiorano le 400 considerando anche le gare di Coppa Italia e gli spareggi promozione. L'annata più prestigiosa resta quella con la maia della Florenzia Viola nel 2002-2003, con cui vinse il campionato di Serie C2 grazie a compagni di squadra del calibro di Riganò, di Livio, Quagliarella ed Evacuo. Al di là dell'esperienza in Viola, però, il maestro di Scotti risale ai tempi della sua militanza nelle giovanili della Lazio. Si è Angelo Peruzzi, con lui ho avuto il grande onore di allenarmi un anno. È stato un anno importante per me, perché ho avuto la possibilità di essere nel giro della prima squadra e anche la fortuna di vincere il campionato di primavera. Ora, dopo sei mesi senza giocare match ufficiali, la chiamata dell'Aquila può diventare l'occasione del rilancio. Ancora sto bene fisicamente, quindi spero di giocare ancora qualche anno a questi livelli. Sì, per me saranno sei mesi di rilancio, perché vengo da quattro mesi in attività, quindi sto bene fisicamente, quindi è un'esperienza che prendo grande entusiasmo. Perché l'Aquila? Perché? Perché è un'occasione per dimostrare che ancora sto bene e è una sfida contro una penalizzazione che è importante. All'Aquila, tra l'altro, ritroverai un tuo grande amico, Manuel Mancini. Da quando nasce questa amicizia? Noi praticamente siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tutto il settore giovanile con la Lazio e praticamente siamo come fratelli. E per me è un piacere ritrovarlo. Restando sempre al calcio, passiamo però dalla Liga Pro alla Serie D e parliamo della Miternina che ha perfezionato un nuovo ingaggio. Si tratta del portiere Mattia Di Vincenzo, classe 1992. Daniela Rosone. Nel difficile percorso verso la salvezza, la Miternina Calcio nel campionato di Serie D arricchisce il proprio organico con un portiere dopo gli ultimi innesti in rosa. Dopo la partenza di Marco Schina e l'ingaggio di Iuri Pantarotto, i giallorossi di mister Vincenzino Angelone hanno preso l'estremo Mattia Di Vincenzo, classe 1992. Di Vincenzo nella sua cadera calcistica ha indossato le maglie di Sant'Egidiese, San Benedettese, Aprilia, Carrarese e Maceratese, disputando campionati in Serie D, in Serie C2 e in Serie C1. Un tesseramento che però verrà perfezionato non appena il calciatore e la maceratese, e sua ultima squadra avranno formalizzato la rescissione consensuale del contratto. Intanto in casa giallorossa proseguono gli allenamenti in vista della gara di domenica 17 gennaio al comunale di Scoppito. Farà visita ai giallorossi di mister Angelone il Matelica. Dallo sport alla cultura, perché una personale di pittura dell'artista aquilano Giancarlo Ciccozzi arriverà ad Hollywood, grazie anche al sostegno di Vittorio Sgarbi. Vediamo il servizio. Tutto parte da un'opera, Trasposizioni, realizzata nel 2009 dopo il terremoto e piena di sentimenti ed emozioni. Un'opera che piace particolarmente al maestro Vittorio Sgarbi, che nota l'artista aquilano Giancarlo Ciccozzi e che lo lancia alla conquista di premi prestigiosi. Premio d'annunzio a Pescara, premio Michelangelo Bonarroti a Lucca, premiato come artista 2015, e ultima, in ordine di tempo, la presenza alla Biennale del Senso della Materia a Greccio con il maestro Guido Carlucci, che è in animo anche di portare la Biennale tra due anni all'Aquila. Allora, la Biennale di Greccio come conseguenza della scelta di Vittorio Sgarbi di portare l'opera Trasposizioni a Hollywood, Washington e New York nel mese di giugno. Qui a Greccio ho portato in treccio di anime colorate, che è appunto la conseguenza, diciamo, un'opera seconda rispetto a Trasposizioni, dove ho voluto un pochino rappresentare la parte più bella della città dell'Aquila dopo il terremoto. Quindi non solo le magagne che ci sono state, ma anche i fatti realmente carini, belli, di solidarietà aquilana. A luglio Ciccozzi volerà anche negli States per portare la sua Trasposizioni a Hollywood e Los Angeles. Un successo importante non solo personale, ma anche per la città dell'Aquila, che compare, seppur non in modo sempre visibile, in tutta la sua arte. Ecco, c'è anche una proposta, quella di portare la Biennale all'Aquila fra due anni, è un'idea per ora? Una proposta, credo, realizzabile con impegno, ci vorrà impegno, grazie alla proposta fatta dal maestro Carlucci, che è attualmente il direttore del Museo Max di Greccio, che con la sua ottima riuscita per quanto riguarda la Biennale del Senso della Mediare di quest'anno, è riuscito a portare più di 15-20 mila persone al piccolo paesino di Greccio e la Valle Santa, soprattutto dovuta anche al fatto della visita sorpresa del Pontefice Papa Francesco, che ha promesso di fare nuova visita nel mese di aprile, quindi nel periodo della Pasqua. Bene, era il nostro ultimo contributo, vi ringrazio anche oggi per averci scelto. Appuntamento alla prossima edizione della TG L'Aquila, buon proseguimento con i programmi di TV6. Arrivederci. Grazie a tutti.